Così non tornai più a lavorare con il tenente Dan Però lui curava i miei soldi della Bubba Gump E me li feci investire in una specie di società di frutta Poi mi telefonò dicendo che non avevamo più il problema dei soldi E io dissi Meno male, una cosa in meno